Salve amici di Youtube Oggi vi dirò come sbloccare Yoshi azzurro in hockey o in qualsiasi sport Non so ancora se in tutti contemporaneamente hai un singolo sport Comunque ci sono due modi Il secondo giocherà alcune volte scegliendo Yoshi Non so quante volte tra lì che non ho mai provato Il secondo è battere nel torno stella Yoshi Se avete fortuna parte su questo percorso lo potrete ripartere Se avete scelto 2 contro 2 potete sfilare 2 Yoshi azzurri Oppure se 3 contro 3 è 3 Yoshi azzurri Tutto chiaro? Ok Poi cercherò Aspettate per vedere un po' se funziona in tutti i sport Nel prossimo sport vi do se riesco a sbloccare lo Yoshi azzurri Mi dira il numero Ok? Vabbè è una perora è tutto Saluti patrassini Bani 190 Ciao 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 Ciao